16 lavoratori in nero e 6 sospensioni di attività per altrettante aziende comprese fra i comuni di Gabicce Mare, Urbani e Tavoleto, i territori in cui si sono concentrate nelle ultime settimane i controlli del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri provinciali. Verifiche mirate a ruota di informazioni captate sul territorio che si sono concentrate prevalentemente nei settori di tessile, agricoltura e pubblici esercizi. In 10 attività ispezionata è stata rilevata la presenza di ben 16 lavoratori in nero che hanno causato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per 6 aziende. Significativi gli interventi in due aziende in particolare, nella prima è stata riscontrata la presenza del 100% di lavoratori in nero, ovvero 3 sui 3 presenti, mentre nella seconda è stata accertata la presenza di manodopera irregolarmente occupata di 9 lavoratori in nero su 14 presenti in azienda al momento del controllo ispettivo. Le verifiche hanno riguardato anche il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi del lavoro, rilevando gravi violazioni al testo unico sicurezza luoghi di lavoro. I militari hanno riscontrato inadempienze per non aver effettuato la valutazione di tutti i rischi presenti, per non aver designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione e per la mancata informazione e formazione in materia di sicurezza dei lavoratori. Per queste irregolarità accertate saranno elevate sanzioni amministrative ed ammende per circa 100.000 euro.